4 ristoranti, il mio viaggio nelle cucine italiane. Un solo obiettivo, aggiudicarsi il titolo di un ristorante. 4 ristoranti in sfida, 4 categorie da votare. Location, c'è troppa roba. Il tovagliato, se proprio d'è. Menù, servizio, conto, un voto da assegnare da 0 a 10. Da questa stagione assegnerò anche un bonus. 5 punti a un solo ristorante per una categoria speciale scelta da me. Ma non basta. Con il mio voto posso confermare o ribaltare il risultato. Il nulla è ancora deciso. Per il vincitore, 5.000 euro da investire nella propria attività. Facciamo che ti metto allo specchio e ti parli. Potevi darmi 7, maledetto. 4 ristoranti, parte la sfida. Sono arrivato in Abruzzo, la regione più verde d'Europa. Ma qui non ci sono solo montagne e parchi nazionali, c'è anche il mare. 132 chilometri di costa tutta da scoprire. Scogliere alte e frastagliate, calette solitarie e spiagge di cioccoli. Impossibile respirare salsedine, guardare le barche dei pescatori e non farsi venire la voglia di gustare il sapore del mare. Ma oggi avere un ristorante vista mare non basta. Trabocchi, piedi nella sabbia e tavolini sul bagnasciuga. Questa è la nuova tendenza dei ristoranti sulla costa. Mangiare con i pied en l'eau, come direbbero i francesi. Per questo, 4 ristoratori hanno deciso di sfidarsi a colpi di pranzi e cene per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante nel mare d'Abruzzo. Ristoranti e ristoratori, preparatevi, sta per iniziare la sfida. La prima ristoratrice in sfida si chiama Vilma. Ha una natura ribelle e dice solo il mare mi può domare. Sono Vilma e sono la titolare del trabocco San Giacomo. Io sono una traboccante, una donna a metà tra una contadina e una pescatrice. Ho arrivato il trabocco in stile shabby, un country chic. È un angolo di paradiso nel mare, è il mio rifugio. Faccio una cucina tradizionale, cercando di recuperare quelli che sono gli usi, le abitudini della cultura marinaresca. Vincerò perché per noi abruzzesi l'unico ristorante nel mare è il trabocco. Vilma, sei pronta? Sì. A bordo. Vilma, perché hai scelto di gestire un trabocco? Tutto è nato da un sogno che abbiamo concepito io e mio padre. Passeggiando sul molo del mio paese, avevamo questo trabocco abbandonato. E da lì abbiamo concepito questo progetto. Bene, andiamo a conoscere l'altra ristoratrice in gara. Si chiama Francesca e si definisce la Penelope che tesse la tela della Movida. Sono Francesca e sono la proprietaria di Penelope a mare. Penelope è la nostra cagnolina, è stata importante in tanti momenti della nostra vita. Oltre al fatto che ricorda il mito greco e io sono un po' a Penelope. Questo posto ha la mia anima, rispecchia a me, il mio marito, la mia famiglia, i miei collaboratori. Tutto quello che noi proponiamo è ricercato e non è lasciato al caso. Dallo stile al menù, dall'arredo, al cibo. Vincerò perché non sono, ma siamo i più forti. Francesca, buongiorno. Ciao Ale, buongiorno. Che look da mare. Grazie. Sei pronta a salpare? Sì, prontissima. Andiamo. Ciao. Francesca, come definiresti la tua cucina? La mia cucina è sicuramente innovativa ma rispettosa della tradizione, con un tocco di internazionalità. La terza donna in sfida è una chef, si chiama Tiziana. Sono Tiziana e sono la chef del trabocco punta rocciosa. Il trabocco è un'antica macchina da pesca. Da qualche anno a questa parte sono stati recuperati e addibiti a ristorazione. Quindi anche questo, uno dei più antichi trabocchi della costa, è divenuto un ristorante. Caratterialmente in cucina sono molto autoritaria. Non c'è democrazia in cucina. Mozzico. Vincerò perché non sono troppo legata alla tradizione, nonostante lavori in un posto molto tradizionale. Tiziana, buongiorno. Buongiorno a te. A bordo. Grazie. Tiziana, sei una chef esigente? Molto esigente, in cucina comando io, sono tiranna. Ristoratrice, l'unico uomo in sfida, si chiama Tiziano e nel suo ristorante ha portato l'atmosfera tropicale. Sono Tiziano e sono il titolare di questo Lido, Lido Cortesito. Sono stato alle Maldive circa dieci anni fa e una sera ci hanno fatto cenare in spiaggia. Ho pensato, perché non posso provarci io? Accolgo i clienti con tutte le attenzioni del caso. A me piace farti stare bene, voglio vedere l'entusiasmo nel tuo viso. Se sento che tu stai bene, fai stare bene me. Uso solo il pesce dell'Adriatico. Questo è il mio orto. Oh, un applauso alla cucina. Spero di vincere, perché io faccio mangiare i clienti in riva al mare. Tra ombrelloni, lettini e lo sciabordio delle onde, la sfida tra i quattro ristoranti nel mare di Abruzzo inizia da Lido Cortesito, il ristorante dal sapore caraibico di Tiziano a Francavilla al mare. Alessandro e le tre ristoratrici sono pronti per la prima ispezione. Ristoratrici, eccoci qua. Siamo di fronte al ristorante di Tiziano, Lido Cortesito. Nome esotico, mi piace? Il nome ci sta tutto, visto che si viene in spiaggia, quindi si vuole qualcosa di esotico, magari si parte dal nome. Buonasera. Tiziano, come stai? Bene, benvenuti al Cortesito. Tiziano, piacera. Ristoratori, vi ricordo che voi dovrete valutare le quattro categorie. Location, menu, servizio e infine il conto. Dovrete dare il vostro voto da 0 a 10 per ognuna di queste categorie. C'è poi un bonus di 5 punti che io darò a uno di voi dopo aver valutato una specialità che vi accomuna tutti quanti qui in Abruzzo. L'utilizzo del pesce fresco. Ristoratori, adesso a voi l'ispezione. E io e te andiamo a vedere le cucine. Buona ispezione. Grazie. Bella l'idea di mangiare sulla sabbia. Sì, siamo veramente a due passi dal mare. L'idea di mangiare sulla spiaggia fa sempre pensare alla vacanza, al riposo, al relax. Le palme sono molto carine. Questo viola magari non è in tono con il resto. Il color sabbia, il bianco, si abbinano di più, colori più naturali. Eccomi qua, Tiziano. Tu sei proprio direttamente sulla spiaggia. Il tuo pesce, fresco, pescato qui, locale. Vogliamo aprire? Certo che vogliamo aprire. Apriamo. Qui abbiamo code di scampi congelate, IQF. Sì. Non italiane? Non italiane. Andiamo avanti. Abbiamo delle cozze. Eccole qua, cozze. Cozze. Vongole. Oh. Pesce freschissimo. Caspita, vedi? C'è un bel profumo di mare qua. Perfetto. Diciamo che le sedie sono un po' vintage. Poteva impegnarsi un pochettino di più, anche perché visto che il nome è il cortesito, uno pensava qualcosa di un po' più esotico come arredamento. Simpatico il barattolino. La tavola è semplicissima, però diciamo che è caratterizzante, carina e simpatica. Griglia. Non è pulita la griglia. No, questa è ruggine. Che succede? Io ci poncio la carne del pesce sopra e me la servi su una griglia un po' usurata. Dopodomani c'è la griglia nuova qui. Mi raccomando. In bocca al lupo. Grazie. A Lido Cortesito, le ristoratrici si aspettavano una location esotica e sopra le righe, un po' come Tiziano. Invece hanno trovato colori tenui e un arredamento troppo semplice. Ora tocca a Tiziano far vivere loro un'esperienza caraibica con la sua proposta. Ristoratrici. La nostra prima cena nel mare. Buonasera e benvenuti. Questa bella donna? Mia moglie, che mi accompagna da circa 30 anni. Fatica, eh? Grazie. E a presto, tra poco. Grazie. A tra poco. Ristoratrici, il menù, intanto guardiamo l'oggetto. Ilma? Non lo trovo tanto pratico. Difficile da leggere? Avrei gradito più, insomma, un menù stampato, ecco. Bene, abbiamo sicuramente deciso per un qualche cosa. Eh, assolutamente sì. Addirittura in ginocchio. No, è per una questione di giunture. Ah, ok, no, pensavo che era un omaggio. No, signore. Allora, inizierai proprio da te, Tiziana. Allora, io proverrei i ciuffi di calabari con le olive taggiasche. Sì. Gnocchi alle zucchine e frutti di mare. Un risotto alla marinara e una grigliata di pesci con spina. Io invece vorrei provare uno scampone al melograno e calamarata agli scampi. Io prenderò invece la frittura e insalata di polpo alla catalana. Grazie, ti siamo. Grazie, grazie. Grazie, grazie. A tra poco. Michè? Vieni, me. Una delle tre ha chiesto un risotto alla marinara e un risotto e un... No. Il risotto sono due porzioni. Vabbè, Michè? Non diverso. Ok. No, c'ho quattro fuoco. A questo punto lo dobbiamo fare. Vilma, secondo me, ha pensato semplicemente di mettere in difficoltà la cucina. Tant'è che ci è riuscita la grande. Un risotto marinara, metto a fare la base. Scrivimi la comanda, non mi ha dato che ci venga a fare. Ok? Posso servirvi? Grazie, sì. Grazie. A tra poco. E chi lo salta tutti quanti? Evidentemente sì. È un personaggio, dai, molto sui generis. Nutriamo questo popolo, dai. Risotto e ciuffetti di calamaro. Questi. Ristoratrici, mi sa che si mangia. Bene. Risotto marinara. Grazie. Prego per lei. Ciuffo di calamaro con l'irataggiasca e campone al melograno. L'insalata di polpo alla catalana. Grazie, Tiziano. Buon appetito. Ristoratrici, la nostra prima portata qui da Tiziano. Ho visto uno sguardo di entusiasmo nei piatti. Specialmente nello scampone al melograno. Gli scampi sicuramente freschi. Lo scampone era veramente buono, però rovinato da un melograno troppo condito e troppo forte. Tiziano. I ciuffi sembrano freschi. Avrei tolto l'olio delle olive taggiasche. Lui ha versato direttamente le olive e l'olio nei ciuffi di calamaro. Il risotto, dal punto di vista estetico, l'ho apprezzato molto. L'avrei gradito più mantecato, meno cotto. Magari con meno peperone. Nella pescatora. Mi ha detto la marinata. Va bene. Filma. L'insalata di polpo alla catalana l'ho trovata troppo gommosa, dura. Me la fai assaggiare? È croccante. Croccante e burrosa. È giusto che sia così. È alla catalana. La catalana e il pomodoro, l'acido del pomodoro, crea al polpo quella superficie che ha al dente sembra invece no, è perfetta. Non era una catalana, non era una catalana. Mancavano le verdure della catalana. Gli scampi iniziano? Scampi ottimi. Melograno congelato. Il melograno non è di stagione, quindi io l'avrei assolutamente evitato. Il melograno ce l'ho ancora dentro la cucina, è freschissimo. Io uso solo prodotti freschi. La calamarata allo scampo. Grazie. Gnocchi, zucchine e frutti di mare. Frittura di paranza, arrosto, sogliola, orata, spiedino e scampo. Ti chiedo scusa. Ti ascolto. Sul menù non c'era scritto che la frittura era anche di calamari, di scampi e di paranza? In genere sì. E oggi che è successo? Il menù del giorno è frittura di paranza. Abbiamo levato gli scampi e abbiamo levato i calamari. Sì. Sì. Ma non... Perché? Non c'è un perché. Ho pensato bene di farti una coccola. L'importante è sapere. Da menù c'era scritto calamari e scampi, quindi io mi aspettavo di trovare anche quelli. Rientra nel personaggio del titolare aver poi coccolato Alessandro solo con la paranza. Tiziana. Il sugo del risotto è stato spostato negli gnocchi. Assolutamente bocciati. Doveva essere il gnocchi e le zucchine. Zucchine non pervenute. Francesca. Calamarata con gli scampi, bella la vista, però due difetti. Qualcino? La cottura della pasta è in là, a mio avviso. Lo scampo deve essere sgusciato perché devi dare modo alla persona che lo mangia di poter mangiare comodamente. Vilma. La sogliola non era male, però l'orata era un po' bruciacchiata. Tiziana. La frittura è fatta bene, è asciutta, cotta bene e soprattutto i pesci sono freschi. Ci hanno fatto un bellissimo apprezzamento sulla frittura. E che Dio ce la mandi buona. Non è che sa troppo di passion fruit, magari no? Eh mambo, che ne sa? Tiziano, eccoci. Il dolce non era un dolce. Una crema con dei topping. Mi aspettavo proprio quello, insomma. Perché la proposta era abbastanza elementare. Poi voglio vedere quando lo rifanno loro. Michele, un applauso. Vistoratrici, secondo voi quanto abbiamo speso stasera qui da Tiziano? Francesca. 110. 150. 150. 135. Abbiamo speso 115 euro. Giusto? Sbagliato? Beh, forse un po' poco. Saranno i voti a parlare per voi. Vi ricordo che vanno da 0 a 10 per le quattro categorie. Vado a prendere i tacquini. Alla location ho dato 7. Avrei gradito un tovagliato diverso. Quel viola mi ricorda molto la camera ardente. Al menù ho dato 5 perché bisognerebbe evitare di fare questi menù lunghissimi. Quindi poche cose fatte bene e buone. Al servizio ho dato 5 perché quando è venuto a prendere la comanda in ginocchio mi è sembrato fuori luogo. Al conto ho dato 8 perché il rapporto qualità-prezzo era più che giusto. Al Lido Cortesito si mangia sulla sabbia e la simpatia di Tiziano mi ha messo a mio agio nonostante qualche distrazione nel servizio. Buona la frittura di Paranza? Una vera coccola. Ho trovato varietà di pesce fresco? Chissà se basterà per raggiudicarsi il bonus di 5 punti. Lido Cortesito totalizza 65 punti. La cena un po' caraibica e un po' abruzzese si è conclusa. Il fritto ha conquistato le ristoratrici. Riuscirà anche a far vincere a Tiziano il bonus di 5 punti per il pesce fresco? La sfida tra i quattro ristoranti nel mare di Abruzzo continua. È il momento di mettere piede sul primo trabocco. Andiamo giù a vedere? Li attende Tiziana del trabocco punta rocciosa. Il trabocco, che cos'è? Il trabocco è un'antica macchina da pesca. Le attrae più i turisti o gli autoctoni? Sicuramente i turisti perché gli autoctoni sono abituati a questo scenario. Però io ho avuto un effetto shock. Io direi di entrare e vedere la chef patron che cosa ci dice. Salire su un trabocco dove fanno pranzo e cena è bellissimo. Hai la sensazione di stare nell'acqua. Qui Tiziana siamo proprio nel mare. Sul mare, sopra il mare, sotto, dovunque. Quasi dentro. Quasi dentro. Signori, buona ispezione. E io e te invece Tiziana andiamo a vedere le tue cucine. Mi piace strutturalmente, amo il legno. Non amo la sedia perché la trovo troppo high tech per quello che abbiamo qui. Voi dovete pensare che abbiamo sempre degli spazi molto ridotti sul trabocco. Quindi è necessario avere delle sedie pratiche da impilare. Il trabocco deve essere qualcosa di spartano. Qualitativo, ma spartano. Tiziana, parliamo di pesce, sai benissimo che c'è un bonus di 5 punti. Voi lo pescate? Noi non lo peschiamo. Ok, quindi questo trabocco non funziona. Non funziona anche perché non riusciremo a soddisfare le richieste dei clienti. Il pesce che normalmente utilizzo è pesce pescato nell'Adriatico ed è quindi pesce nostrano, insomma. Qui esce fuori una bella zuppetta. In colori simili al mio trabocco, le cassettine uguali alle mie. Questa copertura è praticamente identica alla mia. Ma t'ha copiato? Paro paro. Fia mia, se copiate male. Vedo che non è che hai prodotti etichettati. Tipo questo, etichetta, data, sugo, quando è stato fatto e quando va consumato. Nonostante qualche defianza, penso che comunque sia andata bene. Guarda che lì sono molto competitivi. Ma no, ma tanto, vinco. Ah, non c'è storia. No, no, lascia stare. Mi vado a sedere. I ristoratori sono rimasti colpiti dalla magica atmosfera del trabocco, posizionato in mezzo al mare. Ora è il momento di assaggiare la cucina di Tiziana e scoprire se la sua proposta sarà altrettanto convincente. Vediamo un po'. Cosa vi aspettate di mangiare qua? Sicuramente pesce fresco. Pesce locale, fresco e soprattutto tradizionale. Cerchiamo di fare bella figura che abbiamo. Un altro traboccante. Visto che tu hai un trabocco, sarà imparziale? Cercherò di esserlo. Voglio vedere. I trabocchi sono tutti in competizione. L'unica donna chef traboccante sono io. Gli altri sono tutti gestori. Vedendo questo trabocco dall'esterno, immaginerei dei piatti di tradizione abruzzese. Qui invece parliamo di gourmet. Vedi un'offerta più moderna. Esatto. Mi sorprende questa offerta modaiola, diciamo. Positivo o negativo? Un po' negativo. Negativo. Menù fuori luogo. No, menù no fuori luogo. Inadeguato. Tutti i trabocchi hanno una cucina più che tradizionale. Solo noi ci distinguiamo. Signora, hai deciso cosa prendere? Siamo pronti. Io vorrei provare una crema di carote e zenzero con le mazzancolle e poi il cavatelli. Io sgombro al sesamo e torretta di melanzani. Una tartare di melone con gamberi e una frittura di paranza. E invece? Zuppetta di ceci e vongole e brodetto di pesce. Ok, perfetto. Veloce, via. No, questo. Mettilo più in centro. Rosmarino ce lo metti sopra. Veloce. Possiamo andare? Eccoci. Questa è una crema di carote e zenzero. Poi cambierò. Uno sgombro al sesamo e una tartare di melone. Buonasera. Bene, l'occhio vuole la sua parte. Filma. Bello, diciamo, come presentazione. Quindi ti piace quello che vedi? Però. Però. Facciamo un però. Non ha spiegato che erano state aggiunte le mele. Hai ragione, qui non c'è scritto. La mela fa bene alla salute, è pura. Chiamiamo Tiziana un secondo, sono curioso di sapere. Tiziana, una curiosità. Sgombro al sesamo con misticanza, vinagrette e pulpe morose è questo? Sì. Quindi non c'è indicato che c'erano delle mele verdi nell'insalata? No, non è indicato. Ci sta bene con lo sgombro, ho trovato delle belle mele, ma se non piace lo ho cambiato. No, no, no. Questa è la decisione del cliente, non mia. Grazie, Tiziana. Vi lascio. Magari la prossima volta se presta più attenzione. Ma in Abruzzo è un classico scrivere una cosa e portarne un'altra? No, diciamo che siamo un po' testardi in genere. Allava la coccia all'assun, ci sarei fonda l'utembe l'usata buona l'usata. Tutti simpaticissimi. Poteva benissimo decidere di cambiare il piatto, evidentemente ha voluto soltanto rompere i c***i. Scusate. Tutto sommato il mio mix di sapori non era male. Ci stanno, funzionano insieme, hanno un'armonia. Io avrei tolto il sesamo e il pompello. Va bene, iniziamo. Gamberoro senza sapere di nulla. Il melone tentava di ravvivarlo con poche speranze. Francesca. Mi piace la consistenza, mi piace il sapore. Finalmente è un trabocco che incontra l'innovazione. Credo di essere una delle poche traboccanti a osare, ad avere il coraggio di osare. Però non riesco comunque a spiegarmi questa alga nori. Noi traboccanti non possiamo fare una cucina che abbia contaminazioni con quella giapponese. Ognuno di noi deve tutelare le proprie origini. Quindi non sei d'accordo su mettere un qualche cosa di così esterofilo all'inferno? No, l'alga nori no. Adesso dobbiamo andare con un cavatello a frittore e la zuppa. Un cucchiaio per favore. Hai assaggiato l'acqua. Veloce, veloce. Prendi e lo rifai. Punto. In cucina non esiste democrazia, perché altrimenti subentrano l'anarchia. Ho mai faticato così tanto. Ecco la torretta di melanzane. La fritturina per il maestro. Da sapere, non prendevo l'antipasso. Effettivamente avrei dovuto indicare sul menu che era per minimo due persone. Tanto gli piacerà, quindi non ci sarà nessun problema. Vedrai che gli piacerà. Filma. La torretta di melanzane l'ho trovata nel complesso buona. L'unica cosa è che avrei fatto più attenzione a togliere le lische. Mi dispiace. Infatti con l'ossidità anche tossire, probabilmente l'è andata anche di traverso. I cavatelli con le patate cozze hanno questa aggiunta di zafferano che gli danno un bel accento sicuramente. La cottura della pasta direi perfetta. Però nel complesso non mi usciva un sapore che mi ha dato soddisfazione. Tiziano, che cosa mi dici? Buona, buona. Mi chiedo solo una cosa. Se questo brodetto era già pronto, il fatto che l'abbia preparato anticipatamente ha asciugato tutto il pesce che c'era all'interno. Tu fai una zuppa di questo genere espressa? Impossibile. No, non te la faccio proprio. Me la devi prenotare. Lo fanno anche per metterci un po' i bastoni tra le ruote. Comunque quello che conta è il gusto. La frittura mista, asciutta. Sì. Buona e si sente anche la freschezza del pescato. Frittura asciutta, non oleosa, fatta bene. Pesce fresco. E vai! Il bonus su pesce fresco. Ce l'abbiamo noi sicuro. Siamo pronti per il dolce. Cosa propone la casa? Come dolce noi proponiamo dei dolci tipici della zona, tra di Fossacesia e di Lanciano. Quindi non ci sono dolci fatti qua. No, esatto. Sono tutti presi da una pasticceria o da un posto esterno. È impensabile. Io ieri ho fatto uno sforzo tremendo a fare i dolci fatti in casa, un dolce al cucchiaio. Apprezzo l'onestà intellettuale del fatto che abbiano detto che non ci siano dolci della casa, quindi che abbiano portato dei dolci tipici, però secondo me un dolce di propria produzione si può fare. A noi abbiamo vinto sicuro. Vai! Ristoratori, secondo voi quanto abbiamo speso qui? 140. 140. Tiziano? 132. 145. 145. Ristoratori, in verità siamo andati molto più bassi. Abbiamo speso 115 euro. Non è veritiero. Non è veritiero. Per quello che abbiamo visto a tavola, non è veritiero. Adesso, con i voti potete esprimere il vostro giudizio. Se è veritiero, se non è veritiero. Se è giusto, se è sbagliato. Vado a prendere i tacquini. Alla location ho dato 7, perché ho visto diversi elementi di arredo molto simili a quelli che ho io. Al menù ho dato 6, perché non l'ho trovato né della tradizione né innovativo. Quindi era un mix che alla fine non mi ha convinto del tutto. Al servizio ho dato 6, perché il ragazzo non ha spiegato che erano state aggiunte le mele, magari quello era un compito che poteva fare lui. Ho dato 3 al conto perché io lo ritengo non veritiero, lo ritengo estremamente aggiustato. In questo trabocco siamo proprio nel mare. Mangiare culato dalle onde è impagabile da 9. Pesce freschissimo. Tiziana, da vera donna traboccante, è molto esigente sulla qualità. Il trabocco punta rocciosa totalizza 66 punti. Tiziana ha cercato di conquistare i ristoratori con un menù ricco di innovazione. Al momento, trabocco punta rocciosa è primo in classifica. La gara tra i quattro ristoranti abruzzesi si sposta a tutta velocità sul lido di Pescara. Il terzo ristorante Piedown Low è Penelope Amare di Francesca. Penelope Amare, che è il ristorante di Francesca? Mi è piaciuto tantissimo, fin dall'ingresso. I colori, le scritte, il logo mi è piaciuto molto. Dovrebbe essere la raffigurazione di un cane, probabilmente, un pincher, possibile? Molto probabile. Ciao Francesca, come stai? Ciao e ben arrivati. Chi è Penelope? La mia cagnolina, un pincher toy, odiosissimo. Vedi, c'avevi ragione Tiziano. Ristoratori, adesso a voi l'ispezione, mentre io e te Francesca andiamo a vedere le tue cucine. Andiamo. Bello. Nel tavolo mi piace molto il fatto che non ci siano chiaramente tovaglie, visto che siamo in un lido. E' giusto che non ci siano. Molto minimalista, ma è bello. Senza fronzoli, però elegante, con gusto. Francesca, cosa si mangia da Penelope? Possiamo definirci una cucina di pesce rigorosamente fresco. Dov'è? Questo è il frigo del pesce. Allora, qui abbiamo... Scampetti. Zuppa di pesce. Caspita! Il segreto per avere sempre il pesce fresco è sicuramente avere una persona che si dedica solo a questo. Anche queste tavolozze, sospese così, sono molto carine, vero? Molto sì. È un locale che non ha lasciato nulla al caso. L'arredamento è stato curato sicuramente da un designer, fin nei minimi dettagli. Francesca, vedo delle friggitrici con un olio pulito. Una griglia pulita. Tanta perfezione, non è improvvisazione. Io sono maniacale. Vado a tavola e voglio assaggiare la tua cucina. Bene, Alessandro, ci vediamo dopo. Ok, a dopo. Penelope Amare è minimalista ed elegante. I ristoratori hanno apprezzato la cura che Francesca ha dedicato ai più piccoli dettagli. E ora sono curiosi di scoprire se avrà riservato la stessa attenzione alla cucina. Buonasera. Buonasera, Francesca. Vi presento Pavel. Buonasera a tutti, benvenuti. Ciao, Pavel. Vi lasciamo i menù. Benissimo, vi lasciamo qualche minuto allora. Grazie, Pavel. Sei tranquillo. Va bene, promesso. Avrei preferito da Abruzzese Doc delle maioliche di Castelli. Queste invece sono maioliche di... Queste sono di vietri sul mare. Cioè tu riesci a riconoscere il tipo di maioliche? Sì. Questo mi fa paura. Quello che vi chiedo oggi è una cosa sola. Quello che fate sempre. Iniziamo? Iniziamo. Ditemi tutto. Iniziamo, inizio da te. Uno spaghettone quadrato, un calamaro ripieno. Io vorrei un trancio di pesce azzurro e sempre un trancio di tonno con un crozza di sesamo. Un classico calamarata agli scampi. Filetto di pezzata rossa con panocchie grigliate. Non mi aspettavo assolutamente che prendesse la carne, però devo dire che anche negli altri ristoranti comunque c'è stato il risotto e ti vuole mettere in difficoltà. Un pulpo ai carboni e poi una frittura. Buon proseguimento. Grazie. Perfetto. Ventimiglia. Al miglior ristorante nel mare. Vado? Vai. Calamorata. Grazie. Polpo scottato ai carboni. Qui abbiamo il trancio di pesce azzurro. Spaghetto e paparazze. Bene, ristoratori, io direi di assaggiare e vedere se è buono. Tiziana, com'è? È un po' in dieta di cottura. Un po' troppo olio per quanto riguarda la scarola, ma nel complesso buono. La calamarata ha gli scampi. Ho apprezzato il fatto che gli scampi siano stati per metà sgusciati. Il ragù era abbastanza acre. Oh, comunque è sempre lei. Ilma è dall'inizio che ha questo personaggio attorno e quindi me l'aspettavo che fosse la più agguerrita. Tiziano, cos'ha questo polipo? È al limite del mangiabile. È gommoso. Francesca Cara. Eccomi. Ho una curiosità per te. Certo. Mi assaggio il polipo. Mastica bene? È gommoso. Stamattina l'ho visto il polpo, quindi ho detto cavolo, cavallo di battaglia. Ragazzi, abbiamo cannato il polipo completamente. Non sei d'accordo? No, io no. Ok. Sono gusti, accettiamo, non ci sono problemi. Mi sono indispettita perché la verità è che a me non è piaciuto. Andrei, comincia a impiattare. Questi via, per favore. Filetto ben cotto, trancio di tonno. Grazie. Qui sono arrivati due piatti, ma gli altri due no. Arriveranno? Signori, sono in arrivo i secondi. Eccoci qua. Vilma, finalmente hai i tuoi castelli. Sì, sì. E questa tipologia di piatto si chiama fioraccio, perché è proprio un fiore tipico che viene riprodotto dagli artigiani del luogo. Francesca è un'eccezionale padrona di casa. E' qui che chiacchiera e ci intrattiene, sperando di distrarci dal fatto che i piatti escono due alla volta, invece che quattro. Brava. Eccoci qua. Ah, ecco. Anche per Tiziana. Qui abbiamo il calamaro senza salsa di radice, frittorina con la balanza. Grazie caro. Ci sta l'emozionarsi, ci sta l'errorino, però non ci sta servire in una maniera così lenta un piatto rispetto a un altro. Dai, recuperiamo col fatto che sia buona, che le tempistiche stavolta le abbiamo cannate. Tiziana? Mi aspettavo un trancio, così come era c'era scritto. Questa invece è una tagliata. Tagliata, sì. Voi avete l'abitudine, e siamo a tre su tre, di dire una cosa e portarne un'altra. Poi avere una giustificazione per dire no, ma è una coccola. Ristoratori, assaggiamo. Tiziano? Calmare un burro. Un burro. Fresco, buonissimo, intrigante, ripieno, buono. Il tuo filetto? Tutto nella norma, Alessandro. Va bene, sei soddisfatta. Perfetto. Tiziana? Troppo sesamo ho buttato sulla tagliata. Il gusto era molto buono, non l'avrei né cucinato né presentato così. Tiziano, la frittura. Calamari non mi piacciono per niente. Non è fresco assolutamente. Cosa non è fresco? Questo sicuramente no. Quindi sei ritrovato il fresco, nel calamaro un bottonato. Sì. Stesso calamaro? Vado un attimo in cucina, ma... Chef, una curiosità. Il calamaro usato per il calamaro ripieno, è un calamaro... Della zona, no. Fresco della zona? No, è un calamaro proveniente da Sudafrica. Calamari di qui non ne abbiamo. Questo volevo sapere. Sì, ma è sempre un fresco. Tu mi assicuri è comunque un fresco, apposto. Non è che perché la roba arriva dall'estero non debba essere fresca. Su questo andrò a fondo, sul fatto del fresco che non sia della zona. È Sudafricano e lo è anche quello che hai mangiato prima, ossia questo. Questo testimonia il fatto che non è detto che un calamaro congelato sia meno buono di un calamaro fresco. Vai, Vlad, prendimi quelle cialde di cioccolato, per favore. Andiamo. Aspettate che arrivo io al tavolo. Cheesecake alla crema di nocciole. Tartelletta di frolla, cannolo siciliano scomposto, tiramisù classico. Francesca, ti ringrazio. Grazie a voi. Tartelletta. Buona, non estremamente dolce. La cheesecake alla nocciola. Forse avrei usato meno crema di nocciola. Ok. Dai ragazzi, andata, finita, forza, su. Bravi, bravi, tutti, bravi. Il mio marito è il mio tutto, ho proprio bisogno della sua presenza. Secondo voi, quanto abbiamo speso questa sera qui da Penelope? 140. 145? 130. Beh, ci è andato un po' più vicino a Tiziano con 145 perché in effetti abbiamo speso 150 euro. Un po' tanto? Un pochino. Vado a prendere i tempi. Ho cresciato 8 perché è bella, è greca, è napoletana, è in vita ad entrare. Al menù ho dato 6 perché mi aspettavo una perfezione nei piatti. Al servizio ho dato 6 perché è stato piuttosto lungo. Al conto ho dato 6 perché sinceramente 18 euro per una frittura mi sembra un po' eccessivo. Una piccola forma intera sul lungomare di Pescara. Ho apprezzato la particolare attenzione alla cottura e alla qualità del pesce fresco. Sarà Penelope a vincere il bonus? Un po' lungo le attese, però Francesca è una brava padrona di casa, ha saputo intrattenere i commensali al momento giusto. Penelope a mare totalizza 78 punti ed è al momento primo in classifica. Francesca ha convinto tutti i ristoratori con la sua location, ma ha acceso la discussione sulla freschezza del pesce, oggetto del bonus di 5 punti. La sfida tra i 4 ristoranti nel mare dell'Abruzzo continua e si sposta a Marina di San Vito. Sul lungomare un'altra antica macchina da pesca, il Trabucco San Giacomo, attende i ristoratori per iniziare l'ultima ispezione. Ristoratori, siamo di fronte al Trabucco San Giacomo, che è il Trabucco di Milma. Rispetto al tuo, è un Trabucco tradizionale? Rispetto al mio, chiaramente non è un Trabucco tradizionale perché è attaccato al molo. Già da fuori, tradizionale, poco, a parte i pali che sorreggono il Trabucco. È assolutamente meglio per l'accesso, perché mi permette di arrivare col tacco, però io il Trabucco lo adoro vedere in mezzo al mare. Ciao Alessandro. Buongiorno. E ben arrivato. Eccoci qua. Ristoratori, vi ricordo che oggi si tirano le somme. Per voi, l'ultima ispezione e io e te andiamo a vedere le cucine. Siamo arrivati dentro una, insomma, una casa delle bambole. Sono rimasta un po' basita in realtà. Mi è sembrato di entrare in una vetrina di oggettistica. Ridondante, un po' pesante. Sciabbi in un Trabucco? No. Prego Ale, benvenuto nella cucina del Trabucco San Giacomo. Piccolina, come te. Graziosa. Hai pesce fresco qua, sì? Certo. Vieni. Allora, qui abbiamo le triglie. Qui ci sono delle frigliette già pulite. Sì. Lì abbiamo. Le acciughe, un po' di zuppa, degli scorfali, delle bavose. Sì, sì, sì. Quindi, insomma, ce n'è di pesce. Questa cosa che sicuramente si tira un po' d'aria svolazza. Il tovagliato di carta, non si può vedere. La sabbietta colorata mi fa un po' specie. Ha messo tanto impegno nel fare. Assolutamente. L'impegno nel sbagliare. Ascoltate, fiori finti, tovagliolo finto. Siamo il risultato di ciò che siamo. Artefatta lei, artefatto il trabocco. Parmigiano confezionato. Purtroppo il problema principale del trabocco è lo spazio. Però la materia prima è importante. Meglio una bella grattugiata fresca di un bel pezzo di parmigiano. Va bene, va. Allora, Vilma, bocca al lupo, vado a tavola. Sono curioso di assaggiare il tuo pesce fresco. Buon lavoro. Il trabocco shabby chic di Vilma ha colpito i ristoratori con la sua forte personalità. Non sono però mancate le critiche. Riuscirà Vilma a soddisfare gli avversari con la sua proposta gastronomica? Allora, ho finalmente imparato il significato di trabocco. Trabocchetto, perché i traboccanti ingannavano i pescetti tra le reti. Trabocco. Salve, ben arrivati. Eccola Vilma, come stai? Tutto bene. Emozionata? Abbastanza. Da 1 a 10? 8, giusto. 40. A breve siamo pronti per ordinare. Va bene. Ti ringrazio. Francesca. Sì, un menù secondo me in stile con quello che è il trabocco, ma non era assolutamente tutta e solo tradizione come è stata decantata. Visto o te? No, eh, eh, se vedi, miglia marina, 10 miglia marina, se vedi che è stata decantata. Eccomi qua. Allora ragazzi, avete deciso? Mi chiedevo, solitamente è un menù fisso quello che proponete? Di solito proponiamo il menù fisso, però lavoriamo anche alla carta perché vengono persone un po' da tutto il mondo. Sappiamo benissimo che sul trabocco fa un menù fisso e oggi c'era una carta completamente diversa dal suo giornaliero normale. Poi dipende anche molto dalla stagionalità perché noi lavoriamo molto con la stagionalità. Quindi il cavolfiore di stagione? Il cavolfiore l'ho trovato dalla mia fruttivendola. Cavolfiori, verza, questo è un periodo in cui qui non si trovano. Io vorrei iniziare con gli gnocchi e le seppioline che ho visto negli antipasticati. Sì, certo. Se le posso avere dopo. È possibile una variante? Sì. È spaghetto con le vongole. Abbiamo gli gnocchi di pane, che è un piatto tipico della tradizione. Non hai uno spaghetto lì? Vabbè. Dai, cerco di accontentarti. E la frittura miste comparanza comprende anche scampi e calamari, vero? I calamari oggi sono arrivati freschi, quindi nella frittura avremo quelli freschi. Per me invece è un polipo croccante e un cefalo alla griglia. Polpette di sgombro e dopo di che io devo assaggiare il brodetto. Arrivo subito, eh. Ristoratori, un brindisi al miglior ristorante del mare d'Abruzzo. Sì. Vogliono, insomma, un primo le vongole, chi con il l'ognocco e chi con lo spaghetto. Eh, era peggio della gomma da masticare il polpo di ieri, eh. Mi raccomando. Allora, polpo croccante. Sì. L'ognocco di pane con vongole e salicornia. Le polpette allo sgombro. E Tiziano, abbiamo la chitarrina con le vongole. Che ti ho detto? Vige sempre quella legge che se tu chiedi una cosa non è mai esattamente quella. Quindi non è spaghetto a vongole, ma è la chitarrina. Chitarrina. Volevamo fare una coccola. Ci vediamo dopo. Grazie. Io odio la chitarrina. E proprio, oppure quando sei in metà al locale suo, ha portato i paccheri che avevano lo stesso sugo dei gnocchi, praticamente l'ha solo travassato il laddere. Ma che si acconde qui su? Chitarrina alle vongole. Non eccessivamente amalgamata con la vongola. Leggermente saporita e leggermente troppo cotta. Immangiabile. Sulla chitarrina hanno da dire che non è amalgamata abbastanza. Eh, le sapevi. La signora ne l'ha ammassata buona. Francesca, qualcosa mi dici? I gnocchi sono buoni. Sì. Le vongole sono fresche. Tiziano, il polivo. È cotto decisamente bene. Anche la crema di fagioli è buona. L'unica cosa che non avrei messo è mais tostato. Polpo, Tiziano. Mi piacerebbe sapere se il polpo è fresco. Ci mancherebbe, facciamo venire subito la nostra padrona di casa Vilma. Vilma. Eccomi qua. È fresco il polpo? Il polipo è fresco. L'abbiamo preso da un nostro amico qui a Ortona che c'è il peschereccio. La restante parte del corpo? Non c'era il polpo, c'erano solo dei tentacoli. Ce l'abbiamo il resto del polipo? Quello al guerrito, eh? No, mi dà fastidio di essere preso per il culo. Cos'è che pensi che non sia veritiero? Tutto quello che ha detto. Ecco qui il resto. Ovviamente i polipiveraci non sono grandi ma sono piccolini. Non sto parlando solo dei tentacoli, parlo del corpo. No, ma solo Vilma, solo se è fresco o no. È fresco, è fresco. Io non credo che il polpo fosse fresco ma non ci vedo nulla di male, bastava soltanto dirlo. Va bene. Ok, grazie. Prego. Ti ringrazio. Un po' conesta. Diciamo che rispecchia un po' il trabocchetto. Ecco. Devo ammetterlo, mi ha dato un po' fastidio. Ti devi rilassare, se no non ne usciamo. E il pesce San Pietro, giusto? No, lo sapevo del prete. Ah ecco, ma ricordiamo una cosa del prete. Eccomi qua con i secondi. Eccoci qua. Le seppioline, il cefalo per Tiziana. Una bella frittura. E qui abbiamo il nostro brodetto. Tiziana. Allora, il cefalo è buono, è cotto bene e è ancora abbastanza umido. Non mi è piaciuto molto l'impiattamento ma ci sta perché è un pesce classico. Francesca, la seppia com'è? Le seppioline, che poi erano seppiolone, avevano sicuramente dei prodotti fuori stagione. Scusatemi, oggi ho delle grandi curiosità, vorrei sapere se questa seppia è fresca. Domanda di Tiziano, seppia fresca o decongelata? Chiedo subito. Grazie. Non esistono le seppie fresche, a meno che tu mi dica che a maggio hai fatto incetta di seppie fresche e le hai messe in frigo. Allora, Alessandro, come pensavo, anche la seppia era fresca. Seppia fresca, Tiziana. Forse hai perso il gusto per il fresco, Tiziano. Sei falsa e non ti puoi permettere il lusso di prendermi in giro. Seppie fresche? Sì. Prese quattro, due ieri e due oggi. Se mi dici così, ci credo. Comunque me l'aspettavo perché Alessandro darà cinque punti in più alla cosa che ci accomuna tutti e che è il pesce fresco. È un legno fine pasto perché è una torta della tradizione, è buona. Buona crema, buonissima alla pesca. Ti ha addolcito questo fine pasto? Assolutamente sì. Ottimo. Bravi. Bravi tutti, bravi tutti ragazzi. Eccomi qua, il conto. Grazie cara. Prego. Secondo voi, quanto abbiamo speso? Centocinque euro. Centocinque. Cento dodici. Cento venticinque. Abbiamo speso centoquarantadue euro. Ristoratori, adesso potete parlare per l'ultima volta con i vostri voti. Allora prendere i taccuini. La location ho dato cinque perché sebbene è un trabocco non ha la spettacolarità del mare a tutto tondo. Almeno ho dato cinque perché non c'è nulla di male nel congelato, ma preferirei saperlo, quindi la poca chiarezza. Al speso ho dato cinque perché era molto inquieta, sentiva molto la gara. Al conto ho dato quattro perché per quello che abbiamo mangiato l'ho trovato veramente eccessivo. Il ma un trabocco shabby chic tutto al femminile. Qualche scivolone sui piatti di pesce. Ci vuole più chiarezza tra sale e cucina. Tutti devono conoscere la provenienza dei prodotti. Devo dire però che la tradizione la fa da padrona. Al menù ho dato sette. Con 53 punti il trabocco San Giacomo è al momento ultimo in classifica. I ristoratori hanno dubitato della freschezza del pesce. Nemmeno la location e il conto sono riusciti a convincerli. Ristoratori è arrivato il momento di scoprire la classifica provvisoria data dai vostri voti. In questa busta c'è il nome del vincitore, ma per sapere chi è dovete andare in macchina. Io vi aspetto davanti al ristorante del vincitore. Per i quattro ristoratori dell'Abruzzo è arrivato il momento di sedersi al tavolo del confronto e scoprire la classifica provvisoria. Ristoratori è il momento della verità. A questo tavolo finalmente scoprirete cosa pensa uno dell'altro. Per cominciare vi ringrazio per la vostra accoglienza qui in Abruzzo. Sono venuto da te Tiziano al tuo lido cortesito per assaporare un po' di Maldive in Abruzzo e con i piedi sulla sabbia. Devo dire che ci sei quasi riuscito. Da te Tiziana sono arrivato per scoprire che qui in Abruzzo si può cenare sospesi nel mare. Una cosa bellissima. Ti ringrazio. Tu Francesca invece mi hai accolto nel tuo lido Penelope dove Movida e Cucina si fondono sotto il tuo occhio attento. Infine sono venuto fino al tuo trabocco Vilma che tu hai voluto rigorosamente chic e ricco di tradizione. Un bel connubio. Adesso è arrivato il momento di scoprire la classifica provvisoria data dai vostri voti. Iniziale da te Tiziana. Metti la mano sulla cloche per favore. Alzala. Cosa leggi? 66 La voce più bassa qual è? Il conto. Il conto. Quanto hai preso? 12 Tiziano, tu quanto hai dato al conto di Tiziana? 3 Perché non l'ho ritenuto veritiero. Non avendo preso tutti i primi o tutti i secondi il conto non poteva essere eccessivamente alto. Però insomma ci può stare. Vilma, tu quanto hai dato al conto di Tiziana? Ho dato 5 Mi sa che ti sbagli. Hai dato 4. Come mai? Lei ha usato l'alga nori, ha usato diverse cose che secondo me non corrispondevano a quel costo. Vilma, veniamo a te. Alza la cloche. 53. Un voto che non mi aspettavo. Si vede che il tuo trabocco ha lasciato diversi dubbi ai tuoi colleghi. Francesca, tu quanto hai dato al menù? Credo 5. Credi bene. Perché determinate cose come ad esempio il polipo, c'è stato un volersi un po' giustificare su degli ingredienti. Freschissimo e così anche le secchie. Perché tu a ieri hai detto che i calamari erano freschi, poi venivano da sudd'azio. No, è opinabile perché comunque erano freschi, il mio chef l'ha motivato e ho detto... Freschi di congelatore? No, assolutamente no. Credo che sia una battuta molto inopportuna e sei sempre molto acidina in queste cose e credo che questo sia il risultato. No, io mi difendo, gioco le mie casse. Ma guarda che nessuno ti attacca. Tiziano, tu hai dato 3. Cosa è che non ti ha convinto? Si è difesa dicendo una bugia. Non è vero, assolutamente. Come ben saprai, anche tu sei un ristoratore, i polipi, i gelo, le seppie gelo sono di grandi dimensioni. Stai continuando a dire delle grandissime inesattezze? Io credo che tu debba sempre criticare tutti, a prescindere, va bene così. Tiziano, prego, alza la cloche. 65. Qual è la voce più bassa? Menù e servizio. Quanto hai preso il menù? 14. Francesca, quanto hai dato il menù di Tiziano? Credo 5. Credi male. 4. Ho dato 4. Mi aspettavo di più. Il risotto non mi è piaciuto. Gli scampi al melograno per la stagionalità del melograno non avevano raggiunto per me la sufficienza. I dolci. Il topping messo così su delle creme non mi sono piaciuti. È stata una pretesa del cuoco sicuramente. Ilma, tu quanto hai dato il menù di Tiziano? Ho dato, se non sbaglio, 6. No. Comunque pensavo di aver dato almeno la sufficienza. 5. È una cucina troppo vecchio stile. Troppo olio ovunque. Poi ricordo bene, c'era la calamarata, se non sbaglio, alle zucchine. C'era lo stesso condimento che lui aveva messo nel gnocchetto. Gnocco e le zucchine. Il mio cuoco ha sbagliato due primi. Due primi sono stati chiesti, li ha sbagliati tutti e due. È entrato in stress. Però la tua cucina deve essere in grado di... La mia cucina è buona così com'è. Francesca, è il tuo momento. Alza la croche, per favore. Quanto hai preso? 78. In questo momento sei prima. Nonostante il tuo menù non abbia convinto uno di loro. No. Chi secondo te? Vilma? No. Tiziano? Tiziano, quanto è dato al menù di Francesca? Se vuoi ti do una mano. Sì, cinque. Molto internazionale. Probabilmente questo menù deve accontentare una vasta serie di persone. Io ti ringrazio se lo giudichi così, perché per me è fantastico il mio obiettivo. Quindi... Vistoratori, al momento la classifica è Francesca, 78. Tiziana, 66. Tiziano, 65. E Vilma, 53. Tutti voi qui avete a che fare con il pesce. E io ho voluto premiare il suo miglior utilizzo. Dopo aver visto come vi rifornite, come lo trattate, come lo conservate e infine come lo preparate. Il mio bonus di cinque punti va a Tiziana che ora va a 71 e consolida il suo secondo posto. Grazie. Però che manca ancora il mio voto che potrebbe confermare o ribaltare completamente la situazione. In questa busta c'è il nome del vincitore ma per sapere chi è dovete andare in macchina. Io vi aspetto davanti al ristorante del vincitore. I ristoratori, su un van dai vetri oscurati, sono ora in viaggio verso il miglior ristorante nel mare dell'Abruzzo. Hai avuto il prezzo più basso al conto perché tutti quanti abbiamo reputato un conto troppo basso. Non mi puoi mettere un antipasto con ingredienti orientali a 5 euro l'uno. Scusa, ma tu magari hai voluto costarci un po' avanti. Per favore, mi fai rispondere. Però altre cose che avevano un costo superiore. Sai che c'è? Ti metto allo specchio e ti parli. No, Tiziana, io te l'ho detto, per me il tuo conto era basso perché tu ti sei svalutata. I tuoi piatti per me valgono molto di più. Cioè, in altro po' vado a mangiare il pesce fritto in mezzo alla strada spendo la stessa cifra, Tiziana, ma dai. Io, guarda, te lo auguro con tutto il cuore che tu possa vincere. Perché per me... Perché vuoi che vincerei? Perché per me... Perché vuoi che vincerei? Te lo sto dicendo. Non te lo dico io perché vuoi che vincerei? Sì, dimmi. Perché è una trabocca. Certo. Certo, io porto sempre avanti questo. Perché tu ti trai che non ci riflessi. No, no, assolutamente. Io difendo la mia categoria. Ma non è una... Io difendo la mia categoria. Certo, io non sono una... Certo, io non sono una bravura in genere. Sì. Però esiste un mondo lì fuori, oltre il tuo trabocco. Tra i ristoratori continua il confronto, ma ora è tempo di scoprire chi vincerà i 5.000 euro del premio finale. Oddio! Il voto di Alessandro ha confermato il risultato finale della sfida. È di Francesca, il miglior ristorante nel mare dell'Abruzzo. Il bonus di 5 punti per la freschezza del pesce è andato al ristorante trabocco punta rocciosa di Tiziana. Complimenti, Francesca. Il tuo è il miglior ristorante nel mare d'Abruzzo. Perché la tua cucina, pur innovativa, non trascura tradizione e qualità. Grazie. Ti consegno 5.000 euro da investire nella tua attività. Allora, ragazzi, complimenti, tanti auguri e buona festa! Bravi tutti, ragazzi! La classifica finale, data dalla somma dei voti dei ristoratori con quelli di Alessandro, vede al primo posto il ristorante Penelope Amare di Francesca, al secondo posto trabocco punta rocciosa di Tiziana, al terzo posto Lido Cortesito di Tiziano e all'ultimo posto trabocco San Giacomo di Vilma.